Siamo a Tolfa, giorno di Pasqua, ecco Fibi, abbiamo mangiato, abbiamo fatto la carne alla brace, la polenta, adesso Daniele sta bevendo il caffè, almeno si prova, è grande? Fibi! Fibi, fatti vedere, ecco Fibi che ha mangiato più leic di noi, mi sa, sì, questa ha una panza, senti qua, basta, stai giù Filippina, Filippina, qui c'è Ciupillo, ciao Ciupi, poi c'è Tiziana, buonasera, ciao, auguri, auguri, Silvana, dai piedi, ehi dai, auguri, sì, panorama, cazetta cazetta ecco 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 Poi c'è l'orto anche, che ho recintato perché sennò di notte arrivano cinghiali. Ciao ciupis! Ciupi! Ecco l'orto. Ecco le fave, qui c'è la parte del bosco, il battaglio dell'acqua. Tu 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 tu! Era difficile diventare sciaglione perché da sola ne aveva beccati quasi mai. O noti? Perché quando non usciva Massi raramente lui uscivi da sola. Certo perché non aveva regamenti. Stiamo pensando al passato. Remembers. Remembers? Ma allenavo 5 orf a settimana. Ma non è vero che stiamo andando lì a fare i cannaroli con il volo e non c'aveva fare niente tutto il giorno. Io mi allenavo tutti i giorni. Prima atletica, poi facevo pallavolo. Perché io mi allenavo? Ma che si allenavo? Io mi allenavo a scuola. Si allenavo? Che gioco a lei mi si allevo. Vabbè tu pendevi un po' dalle bocca di Massimetto. Un po' ma... Sì, però cioè io quando non stavo con Massimetto non è perché non ci stava Massimetto. Perché mi allenavo. Massimetto. Perché con Andrea... Ma li incontrate ancora tutti questi vostri? In Massimetto c'era. Sì. Anzi non so se ti ho detto. Tipo una settimana, 10 giorni fa mi ha chiamato Carla. Perché volevano andare fuori. Stavano andare a Montalvo tipo. No a Cavalvio. Volevano sapere dove c'andava. Ma stai continuando a riprendere? Si. Ma mentre mangio? Vabbè faccio una ripresa unica. Così non li devo combinare i filmati. Almeno sto... Il primo piano. Il primo piano. Il secondo piano. Questo è Daniele il ciubbano di tutti. Ecco Daniele con la sua nuova pettinatura. Nuova e unica. 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 Va bene. Terminiamo qua. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Grazie.